Diciamo la verità, attendiamo con ansia il Natale perché spesso ci lasciamo prendere dall'angoscia del cosa regalare. Per molti diventa un incubo, spesso per mancanza di fantasia più che di soldi. Infatti non serve molto denaro, basta un pensiero, ma come abbiamo detto se non c'è quel valore aggiunto che mette in moto il cervello, l'ansia è il sopravvento. Tutti cercano il pezzo esclusivo, il cadeau che altri non farebbero o che non hanno mai fatto, ma poi la banalità diventa quasi un obbligo. Allora vi consigliamo di regalare un libro. Dovete pensare al titolo, all'autore, all'editore, chiedete consigli in libreria e tutto diventerà più facile. Ma ancora più facile è fare come chi, arrovellandosi il cervello in maniera sapiente, non si è posto tanti interrogativi e ha soltanto scelto un titolo, quello scritto appositamente per i doni di Natale. Ha fatto tutto da solo, inviando agli amici un ottimo ramanzo poliziesco stampato su pagine rigorosamente gialle, un atto di amicizia verso gli amici. Non molte copie stampate con eleganza e ad ognuno una dedica, ma la curiosità più forte sta nel titolo, Atti di morte, una vera storia romanzata dopo averla tratta da un unico ritaglio di giornale che è diventato anche la sovracopertina. Beh, direte, il titolo non è certo natalizio, ma bisogna leggerlo per capire. Ad amici diversi è stato inviato questo dono graditissimo che Franco Fiorucci, giornalista nato nella nostra riviera, ha scritto per una cerchia ristretta di conoscenze, non ha chiesto consigli, non ha dato consigli, ha scritto stampato e spedito. Non cercatelo in libreria perché non lo troverete, ma se qualche vostro amico conosce Franco Fiorucci chiedetegli di presentarvelo, lui sarà contento e chissà se ne avrà ancora, non so, ma penso che ve ne farà dono del suo ottimo lavoro.